Amadeus, l'attesa è praticamente finita e il giorno della presentazione del conduttore sul 9 è arrivato. Anche tra le storie di Instagram ha pubblicato alcuni momenti della conferenza stampa che precede il via dei suoi due programmi sul 9, ossia Suzuki Music Party e, chissà chi è, l'ex soliti ignoti. L'argomento cardine è stato quindi il futuro, la nuova stagione professionale che lo attende, ma è impossibile non citare il passato. Anche perché ogni sera, a partire da domenica 22 settembre, il suo chissà chi è dovrà sfidare il suo ex programma, ossia Affari tuoi ora presentato da Stefano De Martino. E i giornalisti presenti non si sono lasciati sfuggire l'occasione di fare qualche domanda mirata ad Amadeus sulla Rai e sul suo sostituto al game show del primo canale. Così Amadeus ha rivelato alla stampa di non aver mai visto Stefano De Martino all'opera, non ho mai visto nemmeno un minuto di Affari tuoi. In genere non guardo mai i programmi quando li lascio, come lasciare una fidanzata e guardare come si comporti con il nuovo fidanzato. Non sono in grado di dire come sia il programma, penso bene guardando gli ascolti. E a proposito di Affari tuoi, Amadeus si è tolto qualche sassolino inerente la Rai. Il conduttore ha rivelato di non avere ricevuto nemmeno un grazie dopo che ha riportato il programma al successo di un tempo, ribadito il suo dispiacere quando nel corso dell'ultima registrazione i dirigenti Rai erano assenti. E ha lanciato anche una frecciatina sugli ascolti. È una macchina che va guidata, mi avrebbe fatto piacere sentire dalla Rai dei ringraziamenti ad Amadeus per aver lasciato una macchina perfetta. Il programma nel tempo avrà certamente un abbrivio, si capirà poi come andrà. Io consiglio sempre di festeggiare alla fine di una stagione, non all'inizio. Ricordo che io ho portato l'eredità 22 anni fa in Rai e il fatto che sia in onda dopo più di 20 anni è un orgoglio. Ha spiegato.